Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, oggi è lunedì e ho deciso di spostare l'analisi gameplay di una partita folle a domani, la vedrete domani, perché oggi ci tenevo a fare un po' di chiarezza su Renatino Sanchez, infatti ieri l'ho provato, l'ho sbloccato, in Weekend League insomma l'ho utilizzato per diverse partite e mi sento di poter dare una serie di giudizi e di opinioni su questa carta a 360 gradi per cercare di fugare tutti quelli che sono i vostri dubbi e rispondere a quelle che sono le domande che avete lasciato anche sotto la Flash Review. Quindi senza perdere tempo ci andiamo a vedere quello che ne penso e in più andiamo a fare anche una serie di paragoni con quelli che sono gli altri centrocampisti diciamo più in meta e più chiacchierati del momento nei confronti di Renatino. Quindi passiamo subito sulla schermata in game dove ci aspetta proprio Renato Junior Luz Sanchez, 1,76 come abbiamo già visto, alto alto, 4 di skill e 5 di piede debole. Partiamo proprio da qui perché il 4 di skill per quanto mi riguarda in mezzo al campo mi è stato perfetto, non l'ho sentito minimamente la mancanza di un'ipotetica 5 skill visto che insomma mi serve fare giusto un tacco tacco ogni tanto, magari fare una crocchetta cancellata, quindi le 4 skill su questa carta si sentono e fanno assolutamente il loro lavoro. Stessa cosa per il piede debole, devo dire la verità che si sente, sbaglia praticamente nulla con il mancino, è preciso anche per quanto riguarda la finalizzazione ma questo è un tema che andremo a trattare poi successivamente quindi con il piede sinistro. Ma quello che mi interessa appunto sono proprio gli appoggi che con il mancino è come se li facesse col destro, in particolare mi ha fatto alcune traiettorie di filtrante proprio con il sinistro molto molto interessanti quindi promossissimo il 5 piede debole si sente rispetto a quelle che erano le versioni precedenti come la carta IF e la carta Road to the Final dell'Europa League che magari avevano un po' una carenza sul piede debole che aveva 4 e un po' si sentiva. Per quanto riguarda le statistiche, allora accelerazione e velocità scatto 88, questo piccolo upgrade rispetto alla carta Europa League si sente un pelo soprattutto in termini di reattività però ovviamente non è una carta velocissima anche perché comunque parliamo di un giocatore che è alto 1,76m quindi non è un colosso, è veloce però sulla falcata magari qualcosina concede. Però per andare a galleggiare su quelle che sono le linee di passaggio e poter andare ad aggredire gli avversari si sente perfettamente. Intanto salutiamo gli amici del 118, un bacio che passano e sfrecciano a tutta velocità. Per quanto riguarda invece le statistiche di tiro abbiamo 99 di potenza tiro e 78 di finalizzazione. Devo dire che questo era un parametro che ho visto addestrato delle perplessità nei commenti sotto la flash review però fondamentalmente raga parliamo di un giocatore che vi fa il mediano la mezzala per cui non deve avere questa gran finalizzazione, deve arrivare magari sotto porta alle volte e buttarla dentro. E porca miseria quel 99 potenza tiro, raga questo tira delle castagne che sono allucinanti, cioè fiera proprio sagra delle castagne, levati proprio. Mi ha fatto un gol contro un pro dopo una percussione centrale, palla al piede con primo scatto bruciante lasciando sul posto il marcatore e saracca di destro ad incrociare che veramente merita solamente gli applausi. Quindi per quanto riguarda il tiro devo dire che è molto interessante, ho provato anche qualche tiro a giro col sinistro sfruttando quel tiro dalla distanza 91 e devo dire che mi ha abbastanza impressionato. Quindi per quanto riguarda comparto tiro ovviamente non è così costante, non è che su 10 tiri li segna tutti in 10, magari ne segnerà 6, però già avere un attributo di questo tipo credo che sia molto interessante su un giocatore di questo tipo. Per quanto riguarda i passaggi, 89 di corto e 86 di lungo anche qua, veramente non ho riscontrato alcun tipo di problema. Appoggi vicini molto molto efficaci, passaggi filtranti soprattutto dopo aver chiamato l'1-2 con la vostra punta che scatta anche praticamente da dietro la metà campo a fare filtranti epici, veramente tanta tanta roba. Mi è capitato spesso e volentieri di fare dei cambi di campo col filtrante e col mancino dall'altro lato e come vi dicevo mi prendeva delle traiettorie molto interessanti, praticamente un po' arcuate per evitare quello che poteva essere un possibile autoblock o pressing della CPU avversaria. Quindi comparto passaggi mi è piaciuto veramente tanto. Passiamo alle statistiche di dribbling, abbiamo 84 di agilità, equilibrio 99, reattività 84. Allora passiamo subito a parlare dell'equilibrio perché questo mi sembra regà che non possa cadere, ve lo giuro, è inattaccabile, non lo buttate a terra. Cioè è assolutamente un qualcosa di super bilanciato e questo ovviamente è un fattore importante per quanto riguarda la fase difensiva. In più quell'agilità 84 e quella reattività 84 si sentono nel momento in cui con l'L2 viene andata ad attaccare all'avversario perché quando l'avversario fa i micromovimenti con analogico questo rimane lì a marcare perfettamente, a fare questo movimento quasi ombra, no? A cercare di togliere il pallone. Quindi promosso anche sotto questo punto di vista. Parliamo delle statistiche difensive perché mi avete detto difende meglio lui o Vidal, meglio lui o Pinco Pallino. Adesso non è il momento di dirlo, lo diremo più avanti nel video. Però per quanto riguarda le statistiche difensive io ho fatto proprio delle prove. Ossia cercavo di difendere con gli attaccanti per vedere i movimenti che questo Renato faceva in automatico. E ragazzi, questo qui è molto più automatico dell'Europa League. È sempre al momento giusto, al momento giusto, al posto giusto al momento giusto, scusatemi, meme di Spider-Man. E quindi è anche più facile nel momento in cui voi lo andate a selezionare che vi va a beccare il pallone. E in più fa anche un sacco di intercettazioni automatiche. In particolare questa cosa l'ho riscontrata quando andavo a utilizzare il 4-3-1-2 e lo impiegavo da mezzala con un po' di pressing. Vi giuro, le volte recuperavo il pallone da solo, dicevo Gesù ce l'ha Renato tra i piedi, ma com'è possibile? Fa un sacco di interventi automatici, quindi mi è veramente piaciuto sotto questo punto di vista. Poi è pulito nei contrasti, di fatti ha un bello 85 e anche in scivolata. Alle volte mi è capitato, se fatto col tempismo giusto, di recuperare il pallone nonostante ceda qualcosa per quanto riguarda in materia di centimetri, visto che non è questo colosso. Statistiche invece di fisico, abbiamo elevazione 91 che vabbè lascia un po' così il tempo che trova, resistenza 97 si sente, 86 di forza e aggressività 93 da applausi. Perché raga questo si francobolla, morde le caviglie, non vi lascia l'avversario fino a quando non si ruba il pallone. Ve lo giuro raga, voi lo sentite? Appena con l'L2 vi agganciate questo non vi molla, quindi è veramente una presenza del centrocampo costante e continua. Quindi per quanto riguarda diciamo un valore generale da una scala da 1 a 10 che io gli vado a dare, considerando anche che l'ho pagato 0, perché avevo tutto nel club, gli do un pieno 8. Ok? Perché non mi va di strafare, visto che comunque è una carta che magari con i tots poi, soprattutto col suo tots, si potrà sostituire. Però al momento è un 8 pieno, è 8, è un votone ragazzi, quindi tanta tanta roba per me, promossissimo. E' un giocatore che non deve mancare, ruolo ovviamente il cc o il cdc in un 4-4-2, in un 4-3-1-2. Stile intesa consigliato, ombra. Passiamo adesso alla seconda fase del video, ossia meglio questo o quello. Allora, premesso che, vi ripeto, può giocare in questi ruoli che vi ho elencato, mi avete chiesto se è meglio o peggio di Vidal, di Mataus, eccetera. Allora, per me, attualmente, allo stato attuale del gioco, se abbiamo un club, tra virgolette, vuoto, quindi senza nulla, ci sono solamente due carte che sono superiori a questo Renatino. E la prima è Gullit, perché magari, statisticamente vedete, c'è qualcosa in difesa, c'è qualcosa in fisico, c'è qualcosa in dribbling, ma... Questo qua è un Colossus, è un metro e 91, è un Icon, è incredibile, ha un po' di type unico, quindi Gullit è Gullit. Quindi non mi dite, prendo Renato o Gullit, perché Gullit fa uno sport a parte, ok? Stessa cosa fa uno sport a parte per me Bruno, perché Bruno, ragazzi, io non lo so che c'ha sta carta Potmo, ma è rotta. Così come, ovviamente, Bruno Toti è a un livello ancora superiore, ok? Quindi, parlando di queste due, gli sono sicuramente superiori. Così come è ancora più superiore, ovviamente, vi era, no? Rispetto a Bruno, perché è una carta, anche lui, dal body type unico, eccetera, eccetera, eccetera. Magari c'è qualcosa in passaggio, ma sul fase difensiva questo è allucinante, è allucinante. Quindi, se diciamo, gli devo preferire tre giocatori, gli preferisco questi. Tutti gli altri gli allacciano le scarpe a Renato Sanchez, regà, non me ne vogliate, ma gli allacciano le scarpe. Perché Vidal è forte, ok? Ma per me quel 5 di skill è inutile, mentre avrebbe bisogno più del piede debole, perché è molto più utile in mezzo al campo. Questo qui è vero, è un po' più prestante fisicamente, forse difende un pelo meglio, però Renato è troppo più completo. Quindi se io devo scegliere tra uno dei due, utilizzerei comunque Renato, a meno che non vi serve proprio da cdc unico, magari in un rombo, e allora vado su Vidal, ok? Quindi sotto questo punto di vista potrei preferire Vidal, magari anche se non avete una serie A, eccetera, eccetera, o se l'avete già sbloccato. Quindi adesso passiamo anche a un altro discorso, ossia io ho già Vidal, io ho già Mataus, perché è un altro che pare che vanno droppato in tutti i luoghi e tutti i laghi. Raga, per me Mataus è inferiore a Renato Sanchez. Adesso è chiaro, se voi avete già questo e vi trovate bene, magari è un peccato buttare i crediti su Renato, ok? Però se li prendiamo in valore assoluto, per me Renato è meglio, e se ce l'avete scambiabile lo vendete per monetizzare e prendete Renato. Così come è inferiore a questo Roberto Firmino, che è molto più indisciplinato, difende molto peggio, è più lento, non è neanche così clinical con i passaggi, soprattutto sul lungo, non finalizza bene come finalizza Renato, non è agile come è agile Renato, non si muove bene come si muove Renato. Soprattutto, vi ripeto, in fase difensiva, quindi se avete questo sostituitelo con Renato. Stessa cosa vale per sto Curtis Jones, che per carità è molto forte, ma questo ragazzi è indisciplinatissimo. Vi giuro, alle volte sembra là che state con Ramos Sherlock, please Curtis, do something, fai qualcosa, non si muove, se non lo selezionate, è molto passivo, cosa che invece Renato non è, ok? Quindi però queste qui sono SBC, quindi evidentemente le avete già sbloccate se state, insomma, valutando. Qui il discorso è questo, se avete crediti fate Renato, se invece avete bisogno di migliorare prima altri reparti, magari potete anche tamponare, visto che mancano tre settimane prima che scade Renato, quindi c'è tempo prima di potervelo sbloccare. E tra un premio di qua e un premio di là, insomma, lo potete andare tranquillamente a prendere nel momento in cui vi pare. Quindi per quanto riguarda, diciamo, questo videone recap su Renato, è questo, quindi per me è una carta incredibile. Vale la pena di farlo, a tutti i costi, inferiore secondo me solo a Gullit, Bruno Pot, Miltoti e Viera, gli altri, ripeto, gli allacciano le scarpe. Ruolo consigliato, C-C, C-D-C, soprattutto mi è piaciuto tantissimo quando passavo al rombo, però anche nel 4-4-2 è solidissimo, veramente tanta tanta roba, e andatelo a prendere se avete già quei giocatori e volete provare qualcosa di nuovo. Vidal, Mataos, Firmino, eccetera, eccetera, quindi giocatori che comunque magari sono meta, ma che già possono essere considerati superati, soprattutto Firmino e gli altri, insomma, poi dipende, perché non pensate che magari un Icon è superiore a prescindere. Questa carta, raga, è sbroccata, va sicuro. Per questo video, quindi, è tutto, ragazzoni miei. Io vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani con l'analisi di una partita scriptatissima, quindi mi raccomando alle 13, fatemi sapere in descrizione che ne pensate voi, nei commenti, scusatemi, che ne pensate voi di Sterranatino e se l'avete fatto. Mettete un bel like, iscrivetevi al canale, in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. Buona Pasquetta, buona Pasqua fatta, un salutone al vostro Liberoschi, ciao ciao.